Siamo alla Tautel, al convegno di introduzione sulla mediazione civile e commerciale. Avvocato Pierluigi Gilli, docente universitario, mediatore e conciliatore civile e commerciale. Dal 20 di marzo questo istituto diventerà obbligatorio. È una piccola rivoluzione? Sempre che non venga spostato il termine più avanti, comunque sarebbe non una piccola, una grande rivoluzione utilissima, io penso, a risolvere molti dei problemi che affriccono la giustizia civile italiana. Con la mediazione civile che il decreto legislativo del 4 marzo 2010, numero 28, ha reso obbligatorio prima di poter iniziare una causa civile ordinaria, appena di improcedibilità, si vuole raggiungere un duplice obiettivo, che è quello di liberare i tribunali da una massa enorme di nuove cause e quello di permettere lo smaltimento delle cause civili pendenti, ma soprattutto lo scopo è quello, oltre che di deflazionare, è quello di introdurre una nuova mentalità, direi quasi un cambiamento di carattere culturale, un approccio diverso al problema della risoluzione di una lite, nella quale non si guardi all'applicazione rigida della legge, ma si guardi piuttosto a quelli che sono gli effettivi interessi delle parti, che in un procedimento che dura soltanto quattro mesi al massimo può dare risultati davvero positivi. Ecco, per quanto riguarda l'Istituto della Mediazione, quali sono le materie che possono accedere? Volontariamente chiunque può rivolgersi alla mediazione civile per risolvere una disputa, purché si tratti di diritti disponibili. Il decreto legislativo dello scorso anno impone, appena di improcedibilità, l'obbligo della mediazione civile per le controversie in materia di condominio, in materia di proprietà di diritti reali, in materia di risarcimento del danno da sinistri di autoveicoli inattanti, in materia di risarcimento del danno per quelli che oggi sono molto di moda, gli errori, i cosiddetti errori dei medici, le controversie in materia bancaria e assicurativa. Insomma, direi che se poi si guardano bene queste definizioni, è un ambito davvero molto ampio. La mediazione diventa anche poi obbligatoria negli altri tipi di cause, diciamo così le cause di natura urgente, in cui il giudice è chiamato a prendere provvedimenti cautelari o provvedimenti urgenti in un breve periodo e poi dopo a queste segue la causa di merito. Ecco, assunto il provvedimento cautelare o provvedimento urgente, la causa ordinare non si può cominciare se prima non si è fatta la mediazione. Per quanto riguarda la figura del mediatore, qual è l'iter da seguire per ottenere questo incarico? Possono diventare mediatori tutti coloro che abbiano conseguito una laurea almeno triennale o siano comunque iscritti ad un ordine o collegio professionale. Questo è il requisito di base. L'altro requisito è che abbiano seguito un corso di abilitazione della durata di almeno 50 ore tramite un ente di formazione che sia accreditato presso l'apposito registro conservato dal Ministero di Giustizia che si impegnino per gli anni successivi a seguire corsi di aggiornamento di almeno 18 ore per ogni biennio e poi devono avere i normali requisiti di onorabilità e non avere carichi pendenti o condanne. Per quanto riguarda la figura dell'architetto può sia divenire mediatore ma può essere coinvolto in una mediazione anche nel momento in cui c'è la necessità di un intervento tecnico. Gli architetti essendo laureati ed essendo iscritti ad un ordine professionale possono benissimo fungere da mediatore previo corso, quello di cui parlavo prima. Anzi, gli ordini professionali, gli ordini degli architetti possono anche costituire degli organismi di mediazione con i loro iscritti che abbiano i requisiti abilitativi. L'architetto può avere due funzioni o può essere chiamato come mediatore ausiliario dal mediatore in questo caso l'architetto diventa mediatore, anche lui assume proprio questa funzione di facilitare con anche competenza tecnica la risoluzione del problema. Ma l'architetto può essere chiamato anche come ausiliare del mediatore, come consulente del mediatore. Il consulente, in questo caso l'architetto, può essere chiamato perché si chiariscano i termini della disputa, si mettono dei punti fermi quando ci sono dei dubbi anche di carattere tecnico di modo tale che una volta che la materia sotto l'aspetto puramente tecnico è stata determinata anche con la presenza delle parti, le parti poi abbiano di fronte a sé un panorama che è chiaro e sul quale possono, trattandosi di diritti disponibili, possono loro stessi decidere che cosa fare e come risolverlo. L'ultima domanda è quella concernente il compenso, come viene definito? C'è una tabella che è allegata al decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 e riguarda gli organismi di mediazione di natura pubblica. Le tabelle considerano che c'è un diritto fisso di 40 euro per iniziare la pratica a carico di riscone delle parti e poi il compenso per l'organismo aumenta a seconda del valore della controversia. Sono comunque somme abbastanza, direi decisamente basse, tenuto conto che sono dovute da entrambe le parti, ma entrambe le parti per una controversia del valore di 7-8 mila euro, se fa il ricorso alla mediazione, guardando questa tabella, ogni parte viene a pagare all'incirca 250 euro. Nel caso di mediazione finita con successo, le parti hanno diritto ad una detrazione d'imposta dalle imposte dirette fino a 500 euro, a seconda del valore della causa. Vuol dire pagare fino a 500 euro in meno di IRPEF, non è una cosa di poco conto. Gli verbali di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro, che è il 3%, fino a 50 mila euro. Quindi anche qui 50 mila euro è solo una somma di non poco conto, credo che rappresentino le cause fino a 50 mila euro e credo che rappresentino la grossa parte del contenzioso pendente. Non solo, tutti gli atti del procedimento mediatorio sono esenti dal contributo unificato, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro imposto di diritto di cancelleria. Quindi si fa tutto in modo informale e senza questi costi, che comunque per iniziare una causa ordinaria ci sono. Il contributo unificato per una causa del valore di circa 10 mila euro, tra contributo unificato e Marche da Bollo e le notifiche arriviamo a quasi 200 euro, soltanto appunto per questo. Quindi una parte pregiudiziale, che si chiama appunto tentativo obbligatorio di conciliazione, che ha un costo limitato e soprattutto una durata massima di quattro mesi, mi pare che sia una chance data a tutti i cittadini e soprattutto data agli imprenditori, a chi svolge attività commerciali, artigianali e produttive, di risolvere i propri problemi in tempi brevi e con costi che sono sopportabili e chiari fin dall'inizio.